beyond oltre il titolo del mio nuovo cd in uscita per stradivarius beyond nasce con la volontà di raccogliere brani musicali diversi e ciascuno di questi sfida l'interprete a superare dei limiti di diversa natura siano questi sonori fisici o anche ideologici beyond è un percorso fatto anche di bellissime collaborazioni e profonde intese con i compositori coinvolti manuela kerrer roberto vetrano samir odetamimi keiko arada junghi pagpan e nicolaus a huber beyond nasce anche con la volontà di scattare un istantanea sul mio percorso musicale fino ad ora a 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 o a a a a a a a a Grazie a tutti.